benvenuti a tutti colleghi e colleghi ai webinar organizzati dal fashion manipulation institute by stecco oggi abbiamo un altro importante membro della famiglia della manipolazione fasciale un veterano io direi della manipolazione fasciale e alessandro petrelli che ci parlerà delle posture dello yoga come supporto alla manipolazione fasciale vi introduco per chi non conoscesse alessandro alessandro pratica manipolazione fasciale dal 2003 e la insegna dalla 2007 tenendo numerosi corsi in italia e all'estero india filippine russia kosovo prossimamente anche montenegro albania e romania in età adulta abbraccia nuovamente lo yoga disciplina che aveva approcciato da ragazzino come supporto alla fisioterapia per una lombalgia cronica di cui soffriva e insegna yoga proprio dal 2013 e fondatore della scuola yoga mala cesena tiene workshop di yoga fasciale e che un innovativo approccio che fonda i principi che fonde insieme i principi della manipolazione a quelli dello yoga in italia e nel mondo quindi chi meglio di lui per poterci parlare di questo supporto che le vostre lo yoga possono dare alla manipolazione fasciale quindi diamo un grande benvenuto ad alessandro e vi ricordo che è possibile elaborare delle domande sempre con il punto interrogativo il botone il punto interrogativo e ritrovati in basso a destra del vostro screen domande che poi andiamo a proporre ad alessandro alla fine del nostro speech faremo una discussione insieme circa le vostre richieste quindi la piattaforma e tu alessandro let's go possiamo andare grazie carmelo tutte le volte che sei tu a moderare un mio webinar mi chiedo ma cioè io dovrei moderare il suo webinar carmelo è un grande ricercatore non so se tutti lo sapete grande supporto al team stecco e quindi non te l'avevo mai detto ma grazie insomma molto onorato per le tue parole grazie a te alessandro di che è sempre un piacere grazie allora ciao a tutti carmelo mi ha già introdotto sì effettivamente quello di cui ha accennato è un po quando si dice non tutti i mali vengono per nuocere io quando avevo dieci anni più o meno ho cominciato a soffrire di un forte mal di schiena che non ce ne andava poi ho scoperto in età adulta che era una compensazione in età adulta quando ho imparato un metodo stecco ho imparato a ragionare in maniera globale e ho ragionato sul mio caso ho capito che era una compensazione dell'intervento chirurgico che ho avuto un anno prima di tutt'altra natura di natura internistica e quindi questo mal di schiena mi ha portato ad avvicinarmi alla fisioterapia come paziente prima di tutto e mi sono appassionato tantissimo ho fatto tre anni di riabilitazione durante le medie le tate le medie e vedere questa fisioterapista che con le sue mani il suo sapere riusciva a farmi stare meglio sempre meglio fino a farmi stare bene mi ha legato tantissimo al concetto della mano sapiente che è una mano potente e poi quando le chiesi ok ma adesso c'è non puoi abbandonare quando io ho finito la fisioterapia con te cosa faccio sono venuto per anni mi ha eseguito per anni beh secondo me potresti andare a fare yoga yoga che cos'è ma dai è una disciplina antichissima viene dall'india tu sei molto bravo a muovere il corpo le mi faceva anche della terapia posturale è un corpo molto sensibile riesci a regolarlo bene quando ti dico muovi questo questo segmento muovi quest'altra parte provo con lo yoga e mi approccia lo yoga quando avevo 15 15 anni fino a 17 poi mi sono un po allontanato e l'ho ripresa in età adulta come vi diceva prima carmelo allora non so quanto sappiate voi dello yoga sicuramente conoscete quasi tutti insomma il suo aspetto posturale quindi la parte più fisica atletica ginnica e corporea dello yoga ma in realtà poi ho scoperto da adulto quando ci sono poi appassionato scusate che sia un po scombinato qualche titolo eccetera ho scoperto che il percorso dello yoga non prevede solo asana cioè le posture dello yoga come vedete sono al terzo punto di questo percorso un percorso secondo il metodo di patanjali che è un antico saggio dell'india che ha scritto testi saggi su yoga ma anche sulla medicina sulla grammatica tant'è che si pensa più a un collettivo più che un'unica persona perché ha scritto delle cose molto profonde ed è un po incredibile che una persona 2000 anni fa sapesse tutte quelle cose tutte lui ecco ora si pensa a questo personaggio mitologico in realtà composto da tanti saggi vabbè lui descrive negli yoga sutra 8 rami 8 step 8 passi di questo percorso nello yoga e vedete che solo al numero 3 c'è la parte legata alle posture le posizioni dello yoga di cui parleremo stasera però ci sono tantissimi altri concetti velocemente si vedete dall'inizio ci sono dei precetti morali quindi la non violenza la verità il dire la verità il non rubare essere moderato in quello che si fa e non essere avido non attaccarsi alle cose o le persone è una cosa molto complessa insomma una cosa che il praticante di yoga dovrebbe cercare di professare per tutta la vita e poi ci sono delle pratiche personali che donano appunto disciplina e quindi la pulizia del corpo e della mente il contentamento cioè accontentarsi di quello che sia senza bramare a cose sempre più elevate diciamo così più materiali e ci sono diciamo così delle prove che possono essere simili a un nostro fioretto cose che si possono fare durante la vita per esempio che ne so per il prossimo mese non bevo più caffè e vedo cosa mi succede più che altro è un modo per rinforzare la volontà e esempio del caffè ma bagiannata insomma quello che ognuno può può provare diciamo delle piccole sfide ecco pensate che in india ci sono dei saggi che per dimostrare la loro devozione questo passo qui del dell'ardore si chiamano tapas che non sono le tapas messicane ma in sanscrito significa ardore ci sono alcuni saggi alcuni sadhu che portano il braccio in alto così e lo tengono lì per tutta la vita non lo abbassano mai più e uno dirà ma perché ma perché ma perché fai queste cose cioè ti fanno anche male non necessariamente un fioretto deve deve essere fatto perché fa bene fa bene a sé o agli altri sono proprio delle prove delle sfide che uno fa e poi andiamo avanti cioè andateva oltre le asana oltre le posizioni c'è lo studio della respirazione yoga lo studio diciamo della meditazione e piano piano lo yogi si ritira si ritira dal mondo viene spontaneo dedicarsi sempre più alle pratiche personali individuali e spirituali tant'è che ci sono degli yogi che hanno fatto dei voti di del silenzio e si sono ritirati per tanti anni in una grotta grotte che io sono andato anche a vedere in india e va bene andiamo avanti focalizziamoci sulla parte più posturale questa è una foto della mickey è una nostra collega è la mia compagna di vita e con sotto scritto yoga citta vrittini roda che in sanscrito significa lo yoga calma le fluttuazioni della mente è semplicistico la questa traduzione semplicistica c'è un concetto filosofico molto ampio dietro però per per calarla diciamo così in una ottica più moderna si parla spesso di over thinking di i per i per pensare viene in italiano e nello yoga sutra viene descritto come uno dei principali problemi del mondo della persona è appunto questa mente che continuamente fa rivoluzioni e pensieri non si ferma mai bene per farvi capire che lo yoga è molto più ampio di quello che uno può sapere e di cui parleremo stasera di cui tratteremo stasera bene tutti sappiamo che cos'è la propriocezione qui allora quando parliamo di propriocezione sappiamo descritta da sharrington come un sesto senso perché viene regolato da una parte specifica del nostro cervello è già presente nel feto a sette mesi che comincia a distinguere gli stimoli esterni e estercezione dalla propriocezione però è interessante perché in alcune discipline si fa qualcosa blindfolded quindi con gli occhi coperti per esempio in questa dimostrazione bruce lee riesce ad atterrare l'avversario senza vederlo quindi percependo i suoi movimenti dal contatto la stessa cosa noi ne parliamo di questa cosa ai corsi quando facciamo capire come la mappatura dei recettori sulla fascia del corpo dia il senso direzionale e spaziale del movimento della posizione che quindi sono come feedback che provengono diciamo dalla periferia al cervello che fa capire al nostro cervello la posizione del corpo nello spazio e questo è grazie alla mappatura dei recettori lungo le sequenze mifasciali quindi quando abbiamo una una posizione in avanti del braccio la sequenza che è maggiormente accorciata magari diciamo reclutata e la sequenza di ante la sequenza viene maggiormente stirata è quella di retro la medio la latero l'intra l'extra sono una posizione intermedia non stiamo invadendo il loro campo il loro piano per cui al cervello arriva che altro una coppia di informazioni che sono quelle dei recettori di ante e dei recettori di retro ergo il corpo sa che il nostro braccio in avanti bene la proporcezione è alla base la chiave dell'equilibrio sia statico che dinamico e nelle posture dello yoga che si chiamano asana o asana no in realtà più asana è un termine neutro come in inglese it quindi in italiano noi sbagliamo diamo un'accezione femminile all'asana postura asana perché finisce con la in realtà dovrebbe essere lo asana e comunque le posture dello yoga richiedono questo elemento richiede un equilibrio richiedono ma anche sviluppano quindi se uno parte con un equilibrio un pochettino precario e incerto piano piano con la pratica questa facoltà questa skill si sviluppa moltissimo e sappiamo che l'equilibrio dipende da un buon funzionamento del sistema posturale che a sua volta trae giovamento dall'utilizzo dello sguardo che in sanscritto viene chiamato drishti lo sguardo drishti non è solo lo sguardo dove guardo è come guardo cosa guardo sono tanti tipi di drishti non stiamo qui a analizzarli comunque sono delle direzioni tipo nasagrari drishti alla punta del naso quindi guardarsi la punta del naso così fare come un intra capo 1 bilaterale oppure possiamo guardare in alto attivando la retro possiamo guardare da un lato eccetera eccetera per cui capite che questa fissità oculare fissare un punto in una certa direzione da al corpo un'intenzione una direzionalità che poi va ad attivare la sinergia cioè più intensamente guardiamo in una direzione un po' come gli schemi di cabat più resistenza diamo all'ultimo segmento quindi maggiore è l'intenzione di guardare in una direzione maggiore sarà il reclutamento di tutta una serie di unità miofasciali lungo il corpo che vanno a migliorare la postura la sana ma anche coordinare il corpo appunto lo sguardo è anche importantissimo per mantenere una mente salda sul presente quindi aiuta la concentrazione il veicola la concentrazione ci sono diversi tipi di sguardo oltre alla fissità oculare quindi il guardare intensamente un oggetto metterlo a fuoco come se dovessimo studiarlo che è un tipo di sguardo che attiva il simpatico si sembrano simpatico ti mette allerta pensate a un felino che sta per sferrare il suo attacco ha un occhio completamente immobile non batte nemmeno le palpebre questo è un tipo di sguardo che si utilizza nello yoga e esprime questo tipo di sguardo una forte intenzione direzionale dicevamo ma esistono anche lo sguardo consapevole cioè uno sguardo in cui per esempio io adesso sto guardando in direzione dello schermo ma vedo perfettamente la mia stanza non sto focalizzandomi sulla telecamera come in questo modo ma ho uno sguardo come quando tu parli con una persona voi parlate con una persona e vedete che questa persona ha lo sguardo un po' vago che si è come un po' incantata no? si sta pensando ad altro ecco quel tipo di sguardo senza mettere a fuoco un punto è uno sguardo che si può chiamare consapevole perché tiene diciamo così sotto attenzione diciamo tutto ciò che c'è nel campo visivo senza fissare un punto in particolare e poi c'è l'inner gaze o inner sight cioè guardarsi dentro quindi tenere gli occhi chiusi questo calma la mente attivando il parasimpatico e aiuta ad aumentare la propria gestione e l'introspezione e amplifica in questo modo le sensazioni sottili spesso si parla di rifondazione percettiva quando pratichi yoga cioè le percezioni che noi abbiamo del nostro corpo e dello spazio dell'ambiente esterno possono essere molto affinate con una pratica attenta quindi vedete la stessa postura performata da due praticanti quello sopra il mio maestro il mio maestro indiano di yoga e quello sotto sono io che facciamo la stessa postura lui la fa molto meglio ma io la faccio da più chiusi per cui diventa più fine la sensazione che si ha e lui invece ha uno sguardo consapevole ha uno sguardo molto wide si vede che non fissa un punto ma ha uno sguardo molto espanso quando puoi chiudi gli occhi intanto che vi guardate un po' il video sono io bendato faccio cose di equilibrio sulle mani diciamo che escludendo la vista l'energia vitale quello che in sanscrito nella filosofia yoga viene chiamato prana si concentra sugli altri sensi ok? escludendo la vista va più che altro sulla propria sezione sull'udito ma l'udito non ci serve amplifica così le sensazioni sottili questo tipo di approccio fa aumentare l'attivazione del parasimpatico chiaramente se fai una cosa troppo difficile si attiva comunque il simpatico perché sei teso hai cuore di cadere eccetera ma quando movimenti di base non so come dire banali come questi cioè banali per me non so per altri però queste sono cose abbastanza semplici attivi il parasimpatico cioè ti senti molto più tranquillo non ti distrai eccetera aumenta la propria sezione e aumenta l'introspezione appunto per quella che vi dicevo prima per una rifondazione percettiva ai corsi di manipolazione fasciale io faccio sempre fare alla fine del secondo livello o nelle masterclass o anche alla scuola due settimane fa questa è una foto della scuola l'ultimo weekend che ho tenuto alla scuola di manipolazione una palpazione bendati perché percepire il corpo non solo il tessuto fasciale ma anche la pelle la temperatura della pelle il respiro dell'altra persona coordinarsi col suo respiro è molto utile per affinare tantissimo la sensibilità e per aumentare quella che è la capacità di visualizzare quello che sentiamo con le mani bene quando provate a fare cose con gli occhi chiusi magari anche manipolare è come se vi si chiarisse tantissimo la forma del cc la sua rugosità è come se nella mente poteste farlo ruotare a 360 gradi come un modello 3D zoomare dentro è molto interessante provatelo non fatelo dopo che avete mangiato o dopo pranzo così perché vi viene l'abbiocco e cascate sul paziente elementi negli asana allora ogni asana richiede un mix di diversi elementi per essere performata flessibilità ed è la cosa più famosa che si pensa vengo a yoga perché voglio fare stretching nel mio allenamento manca lo stretching allora vengo a yoga per fare stretching non è proprio stretching lo yoga e infatti dopo 5 minuti vedi che questa persona è già in panico e che dice oddio ma questo non è solo stretching no perché è vero che richiedono flessibilità e adattabilità del sistema muscolo fasciale ma è richiesta moltissima forza soprattutto all'inizio e una forza resistente perché magari una posizione abbastanza faticosa viene chiesto di tenerla anche in qualche minuto dipende chiaramente dallo stile di yoga serve controllo del corpo quindi proprio sezione serve equilibrio e lavorare in equilibrio ti fa lavorare automaticamente anche in economia serve molta concentrazione e consapevolezza durante la pratica quindi l'ascolto di sé in genere il praticante principiante cosa fa? si sente inadeguato guarda i vicini l'asana del vicino è sempre più verde voglio fare anch'io come fa lui magari questo qua ha un corpo diverso ha un'esperienza diversa tiro come fa lui spingo come fa lui o come fa lei e mi faccio male quindi ogni praticante ogni persona è naturalmente dotata di alcuni di questi elementi è difficile che chi parte a fare yoga ha tutti questi elementi perfettamente equilibrati tra loro e tutti al top magari chi arriva che è molto flessibile è un corpo molto adattabile però non è forte allora gli esercizi di forza crolla qualcun altro invece può arrivare molto forte muscolarmente ma poco flessibile qualcun altro ha un buon controllo una procezione ma non è concentrato non è consapevole di quello che fa allora ogni tanto si distrae guarda in giro e non capisce cosa gli dici qualcun altro può essere molto equilibrato cioè avere un equilibrio ottimo però poi non è forte non è flessibile quindi diciamo che tutti noi possiamo fare leva sui nostri punti di forza su questi elementi che sono elencati all'inizio però all'inizio questi elementi ci servono per progredire nella pratica però nel tempo dovremmo livellare questi picchi ok? se il picco era sulla forza devo pian piano costruire flessibilità costruire equilibrio nel tempo posso anche diminuire la forza per equilibrarmi nel tempo bene quindi capite che lo yoga può essere visto anche come veicolo per il benessere psicofisico ok? quando tanti elementi del nostro essere sono in equilibrio tra loro allora si parla di homeostasi e di benessere in senso lato e sappiamo che in ogni asana lo capite benissimo non da quest'immagine ma anche dalle foto che conoscete delle varie posture alcuni muscoli si accorciano e altri si allungano poi possono anche essere accorciati in contrazione concentrica allungati in contrazione concentrica ma non è detto ci sono alcuni stili di yoga che sono passivi si parla di yin yoga cioè uno yoga dell'abbandono yin yang ok? è quando tu utilizzi molta molta forza molto attiva una postura molto attiva uno stile molto tosto diciamo così tonico però ci sono anche degli stili in cui tu arrivi in postura ti abbandoni completamente ti lascia andare in favore di gravità e allora si parla di yin yoga quindi alcuni muscoli si accorciano altri si allungano di solito con una contrazione e per raggiungere un'asana e per mantenerla occorrono flessibilità per raggiungere il corretto allineamento serve però anche forza per garantire la stabilità quelle articolazioni che arrivano diciamo ai loro range più estremi e praticare in sicurezza allora si parla di mobilità cioè mobility la forza più la flessibilità lo yoga è ottimo perché se fai un lavoro fatto bene diciamo anche se è solo a corpo libero non hai delle zavorre nel che tu non sia non voglia proprio progredire in maniera molto approfondita e utilizzare anche i pesi però non si fa di solito allora lo yoga ti può aiutare a migliorare quella che è la mobilità che non è solo la flessibilità ma è una flessibilità supportata da una forza adeguata a tutti i range e allora molto utile per lo sportivo perché è quasi un lavoro preventivo preventivo degli infortuni ma qui si potrebbe aprire un capitolone enorme i tipi di contrazione visto che siamo tutti del settore li conosciamo l'isometrica che si tiene nello yoga l'isotonica concentrica eccentrica anche queste coesistono perché per scendere in una postura ho una serie di muscoli che si decontraggono in maniera eccentrica e altri e gli stessi magari quando vogliamo ritornare su si contraggono in maniera eccentrica e concentrica scusate l'isocinetica non c'è a meno che tu non faccia yoga in acqua ma lasciamo stare l'auxotonica cioè quella che si usa per esempio nel pilates in alcuni macchinari del pilates legati agli elastici così o in palestra o nei workout vari che esistono nello yoga in teoria non esiste ma se noi pensiamo a voler mantenere per esempio siamo in piedi così in piedi vogliamo alzare una gamba così cosa abbiamo? tutta la sequenza di ante quindi i flessori dell'anca il quadricipito eccetera che si contraggono in maniera concentrica in questo modo qui noi abbiamo tutta una resistenza della sequenza di retro facciamola molto semplice capisco che sto semplificando la cosa che tira come un elastico ok quindi è come se l'ante non dovesse fare un lavoro solo antigravitario ma combattere anche la tensione della retro perché stiamo portando dei range estremi con una sequenza intera che lavora e quindi una sequenza intera che limita come antagonista il movimento in ante quello può essere un elastico e quindi a me piace pensarla anche con una contrazione auxotonica nell'interno della pratica chiaramente conosciamo la sinergia fra i vari muscoli quindi alcuni muscoli che si attivano insieme per esplettare una certa funzione una certa posizione ma questi muscoli sinergici devono combattere contro la tensione e la rigidità delle unità e delle sequenze miofasciali antagoniste bene è importante ricordarci che esiste nel corpo una legge di Sherrington l'inersione reciproca che dice meccanismo di coordinazione dei riflessi motori per cui l'eccitazione che provoca la contrazione di un muscolo o il gruppo di muscoli determina l'inibizione dei muscoli antagonisti per farla più semplice se voglio rilassare la muscolatura dietro devo contrarre la muscolatura davanti quindi in questa postura in basso con lo scheletro diciamo seduto a terra con l'allongamento degli scuri rurali lì ovviamente sono immagini che considerano solo determinati muscoli non la fascia non il modello biomeccanico di Luigi stecco ma si capisce che se voglio allungare gli scuri rurali e andare avanti quindi portare il bacino in anti-versione con la flessione d'anca devo aiutarmi con l'attivazione del quadricipite cosa che per esempio la ragazza vestita in rosa non sta facendo vedete che ha il ginocchio piegato il piede sono i piedi extra ruotati lei è in yin yoga lei non sta attivando la muscolatura per entrare in profondità nella postura lei si sta appoggiando alla gravità si sta appoggiando alla resistenza dei suoi tessuti e quella è la sua flessibilità se attivasse anche la muscolatura sicuramente andrebbe più in profondità esprimendo quella che è dicevamo la mobilità forza più flessibilità sapete benissimo che la pratica dello yoga prevede una grande attenzione al respiro e il respiro sappiamo tutti che ha un grande effetto sul sistema nervoso autonomo ad esempio facciamo del respiro due grandi gruppi la respirazione rapida in genere è anche molto toracica quella rapida ma può essere anche addominale nella respirazione rapida prevale l'attività alfa quindi aumenta la frequenza a livello cerebrale quindi aumenta la vigilanza la veglia hai un senso di eccitazione di concentrazione di focus che hai di fuoco e si attiva il sistema nervoso simpatico quindi attacco fuga quindi potrebbe essere anche leggermente stressante alla lunga la respirazione rapida e aumenta il tono della muscolatura predispone a un certo tipo di pratica e alle attività intense e all'attività di concentrazione spesso nello yoga però si fa la respirazione lenta dove prevalgono le attività beta theta delta e diminuisce la frequenza di queste attività queste onde quindi si entra in uno stato di rilassamento profondo come di sonno che a un certo punto ci si debba addormentare quello no però c'è un'attivazione del parasimpatico tant'è che spesso le persone a inizio pratica ci sono persone sempre simpatetiche che hanno un sistema simpatico sempre attivo tu le metti a loro agio le fai sdraiare le fai respirare eccetera eccetera dopo poco incominciano a sbadigliare entrano quindi in una modalità parasimpatica e diminuisce il tono della muscolatura quindi si entra più in profondità in una postura respirando lentamente il cervello quando siamo in parasimpatico in modalità parasimpatica si riposa come se avessi dormito dai tra virgolette ecco bene la dinamica respiratoria la conosciamo benissimo il diaframma si contrae la cupola si abbassa tramite la connessione con le pleure porta giù il parenchema polmonare entra dentro l'aria eccetera eccetera è importante ricordarsi che secondo queste immagini insomma ci sono delle connessioni tra i vari organi interni tra le sequenze organofasciali cosa avviene attraverso la respirazione attraverso una respirazione contratta ci possono essere delle tensioni che si riversano su vari muscoli ecco se il diaframma lavora poco è rigido allora si porta dietro tutta un'attivazione dei muscoli inspiratori accessori e così possiamo avere dei dolori sappiamo che il respiro muove tutti gli organi questo sotto il titolo con le immagini nere in un grafico sono delle immagini di una prostata che si muove in varie direzioni questa immagine è molto bella secondo me questo video scusate perché si vede che il diaframma che è quello che fa la cupola si porta giù i polmoni che sono la parte nera in alto però andate a vedere in basso quanto anche gli organi pelvici vengano spinti in giù da una respirazione profonda per cui respirare non porta solo effetti benefici di 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 alma di quiete al sistema nervoso autonomo ma va a mobilizzare anche tutti gli organi interni andandoli a far tra virgolette respirare anche loro crea una specie di effetto spugna sappiamo che con esercizi di respirazioni profonde diminuisce il dolore al collo si riduce lo stress e si abbassa anche la pressione sanguigna quindi molto importante insegnare i nostri pazienti io lo faccio durante la pratica cioè durante la seduta di manipolazione fasciale durante e alla fine spesso a un determinato tipo di persone a alcuni temperamenti in particolare faccio fare gli esercizi di respirazione profonda e cosa vedo vedo che se pratico su un punto la manipolazione questo punto è bello doloroso resistente ostico non si scioglie posso fare una pausa chiaramente sapete che si può fare una pausa a quel punto saltando su un altro punto adesso collegato secondo il modello biomeccanico di stecco oppure vedendo che la persona diciamo è particolarmente coinvolta da questo dolore si sta stancando della seduta io gli faccio fare proprio una pausa completamente e durante la pausa gli faccio fare un certo tipo di respiro bene e comunque si è visto che chi ha un respiro corto alto tipico paziente ansiogeno sviluppa dei problemi al collo sviluppa dei problemi alla mandibola alle spalle mal di testa dolori alle scapole dolori tipo brachialgici brachialgici eccetera sì le disfunzioni respiratorie vanno a modificare anche la postura per ricordarci che le tensioni che si innescano portano il paziente a delle rigidità dell'ipertono sui certi muscoli inspiratori accessori e vi faccio vedere queste immagini perché è importante secondo me capire che questi sono i muscoli accessori dell'inspiro e quindi abbiamo il piccolo pettorale il grandentato lo scom insomma tutti i muscoli che sollevano le coste facendo punto fisso sulla parte alta del corpo sulla cerniera segmento scapola e sul collo alzano la gabbia toracica però se guardate le frecce gialle che ho messo ci sono fibre muscolari di tutti questi muscoli che sono corrono parallele tra di loro vedete anche qua nell'immagine di destra seguite lo scom lo scom di sinistra ha la stessa inclinazione del piccolo pettorale e anche del grandentato ed anche dei muscoli intercostali interni che sono quelli dell'inspirio prevalentemente significa che questi muscoli sono sinergici tra loro perché hanno la stessa direzione le loro fibre muscolofasciali hanno la stessa direzione quindi come nell'unità miofasciale le fibre ipso direzionali sono quelle sinergiche che fanno fare quel segmento il determinato movimento sullo spazio nello spazio ecco che allora capiamo che i muscoli inspiratori hanno tutti a seconda dell'emisoma in cui sono una stessa identica come si dice un parallelismo ecco fra le fibre e questo conferisce loro sinergia i muscoli dell'espirio guardate sono quasi tutti sotto diaframmatici quindi i retti dell'addome gli obliqui esterni gli obliqui interni quindi che abbassano il livello costale e comprimendo diciamo il punto vita aumenta la pressione abdominale per cui esce fuori l'aria dal naso o dalla bocca allora anche qui vi ho selezionato alcuni muscoli e guardate come ci sia una perfetta continuazione e continuità fra gli obliqui esterni di un lato e gli obliqui interni dell'altro lato e i muscoli intercostali esterni poi anche dall'altro lato qui lo vediamo meglio ma anche da dietro guardate io vi ho messo azzurro il gran dorsale sotto c'è il dentato posto inferiore che ha sempre quella quell'orientamento lì delle fibre quando lui si contrae capite che le coste si abbassano dando così un impulso espiratorio maggiore fino ad arrivare al gluteo controlaterale questo è un slide che ho preso da una mia lezione sulle spirali lezione che tengo sempre con grande entusiasmo a secondo livello ma anche alla scuola di manipolazione poco fa bene va bene questo introduce il fatto che il respiro sia una funzione vitale e proprio per quello è legata ai tre piani dello spazio cioè le spirali cosa fanno cosa fanno i cf coordinano il passaggio graduale il coinvolgimento di più unità mio fasciali ok fondono l'azione di più unità mio fasciali per cui il respiro non è solo movimento antero posteriore ante retro ma è un movimento anche latero laterale e un'espansione diciamo obliqua per cui i tre diametri del polmone aumentano durante l'inspirio quindi è tridirezionale noi infatti sappiamo che il corpo si può muovere sui tre piani dello spazio direzione di movimento sagittale frontale orizzontale con le nostre sequenze agoniste antagoniste che conosciamo benissimo allora questo è stato per me un'epifania cioè quando da adulto con una forma mentis già legata la manipolazione fasciale ho ripreso a praticare yoga in maniera seria non come da ragazzino che da ragazzino andavo a lezione praticavo due volte alla settimana e morta lì andava già bene così va bene perfetto è stato un imprinting che poi ha dato i suoi frutti nel tempo da adulto ho cominciato invece a praticare come si deve cioè tutti i giorni inizialmente facevo degli abbonamenti open alle varie palestre di yoga dove andavo piano piano sono diventato diciamo così maestro di me stesso cioè non ho più un maestro che mi segue fisicamente ma io faccio degli approfondimenti vado in India sto di mesi pratico imparo torno a casa con una mente piena di informazioni da lì in avanti faccio di queste informazioni il mio maestro costante e pratico tutti i giorni allora quando ho cominciato da adulto a praticare seriamente mi sono accorto che cacchio ma ma queste posture dello yoga lavorano proprio sui tre piani esattamente come ci insegna il modello biomeccanico di stecco allora ho iniziato a valutare le posture con le unità miofasciali e le sequenze miofasciali sui piani e sappiamo che riassettare la postura lungo un piano implica che una deviazione di un segmento in una direzione comporta il riassetto di tutto il corpo a zig zag quindi se stiamo stiamo muovendo in flesso estensione allora ante retro ante retro e questo è il motivo per cui durante i trattamenti di apparato locomotore si tratta un piano per volta ok quindi lavorando solo agonisti antagonisti unità di fasciali dello stesso piano poi però piano 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 da piano a piano mi sono accorto che le posture dello yoga possono essere valutate e sviluppate secondo i tre piani dello spazio ad esempio vi faccio questa faccio vedere questa foto questa postura si chiama Ardha Chandrasana posizione della mezzaluna in realtà lei cosa fa vorrebbe appoggiarsi al muro ma se vedete ci sono un sacco di difetti nella sua posizione le braccia non sono allineate non sono una sopra l'altra il busto è obliquo da una parte la gamba obliquo dall'altra la gamba sotto non è perfettamente ruotata di 90 gradi ma è un po' obliqua e la sua scapola superiore non tocca il muro viene più avanti il suo gluteo superiore non tocca il muro viene più avanti insomma ci sono tante imprecisioni io vi faccio vedere delle varianti che ho tra virgolette inventato io io non ho inventato niente in realtà però è il corpo che piano piano mi porta a sperimentare determinate posture sono tutte varianti di quella postura lì vedete come si potrebbe utilizzare il muro proprio come feedback come supporto per allineare i vari segmenti allora la postura diventa pura puramente sviluppata sul piano frontale e secondo questo concetto ho capito che le sequenze di ante e retro sono coinvolte in una serie molto ampia qui vengono messe solo alcune di posture dello yoga ad esempio la prima fila di posture là in alto quelle in bianco e nero sono raffigurano uno dei tanti saluti al sole che esistono che sono codificati al giorno d'oggi quello è il saluto al sole della stanga yoga tra l'altro ieri è morto il guru della stanga yoga prematuramente siamo tutti in lutto Charat Charat Joyce allora quello è il saluto al sole della stanga yoga che se guardate è tutto flesso estensioni flesso estensioni è tutto antiretro in pratica così come nel saluto al sole esistono tantissime posture che si sviluppano questo è un concetto un termine importante si sviluppano sul piano sagittale quindi estreme flessioni estreme estensioni attivazione della sequenza di ante per mantenere dritta una gamba Baccasana questo qui è in equilibrio sulle maniche vi faccio vedere io prima bendato è uno spostamento del peso in avanti per decollare e portare il corpo in equilibrio quindi è comunque un movimento una traslazione del baricentro sul piano sagittale eccetera 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 poi così come ci sono estreme flessioni ci sono estreme estensioni o comunque movimenti in avanti movimenti indietro un altro tipo di saluto al sole che è quello tradizionale della mia scuola cioè che mi hanno insegnato nella mia scuola in India è quest'altro che è più tradizionale rispetto a quello della stanga yoga questo è il classico saluto al sole del latta yoga prevede anche qui vedete una gamba avanti una gamba indietro allungamento dei flessori allungamento degli estensori arco nella schiena flessione in avanti è tutto un passare da una posizione in ante a una posizione in retro una posizione in ante quindi postura e contropostura poi come si fa con i cc tratto alcuni cc in ante e poi vado a compensare con dei cc in retro e queste cose mi risuonavano piano piano durante la mia pratica diciamo ma cavolo ma segui proprio i principi del bilanciamento di Luigi Stecco fighissimo bene andiamo avanti praticando yoga con questo concetto voglio farvi vedere una differenza fra la postura della spaccata sagittale nella ginnastica artistica è quella vedete come il suo femore di destra non è parallelo al sinistro il suo bacino non è in squadro e la schiena non è dritta quello che si vorrebbe sarebbe questo cioè il bacino perfettamente allineato sul piano non dico nella ginnastica ma nello yoga e le gambe che sono perfettamente in maniera pura orientata una in ante e una in retro vediamo alcune persone praticare queste posture vedete come la sua anca di sinistra quella che è estesa è molto proiettata in avanti vedete come il bacino è in squadro e vedete anche che nella ginnasta quella con lo sfondo blu il suo piede dietro quello che è in alto nella figura è extra vuotato vedete che lei appoggia solo l'alluce invece nella postura dello yoga si appoggia tutto il piede tutto il dorso del piede compreso l'unghia del mignolo e se lo facciamo così con il piede puntato il tallone alto allora andiamo a controllare meglio la rotazione del femore la rotazione dell'arto inferiore perché quello che non vorremmo durante un'asana che si sviluppa su un piano è uscire da quel piano e andare a compensare su un altro piano ok quando non abbiamo abbastanza stoffa abbastanza corda abbastanza fascia per rimanere sul piano allora andiamo a accedere verso un altro piano questo non lo vogliamo un altro modo per capirlo è chiaramente queste sono posture estreme non sono semplici sono abbastanza complesse quando andiamo ad allungare ancora di più il quadricipite quindi la sequenza di ante se non c'è una buona flessibilità ma anche una buona forza per supportarci allora capite che il nostro la nostra gamba quindi la tibia il perone cadrebbero da una parte noi ci sbilanciamo e cadiamo da un'altra parte bene vi ho fatto vedere solo alcuni esempi ci sarebbe da parlare per mesi queste posture però perché ce ne sono centinaia e il piano frontale ve ne faccio vedere alcune nella prima posizione quella che si chiama Prasarita Padottanasana lui sta stirando in particolare gli adduttori anche un po' gli schioclurali in Trikonasana sta stirando gli adduttori di una parte e la sequenza di latero del tronco dall'altra parte la pelve l'ombra eccetera e così sono tutte posture che vedete che si sviluppano una volta io dicevo lavorano lavorano questa postura lavora sul piano frontale no perché non sono coinvolti solo i muscoli del piano frontale vi faccio vedere di nuovo quella postura lì allora lei vedete come svirgola sul piano orizzontale cioè introduce diciamo delle rotazioni delle torsioni e delle inclinazioni c'è tutto quindi se lei volesse mantenersi così come nelle linee verdi dovrebbe far lavorare i muscoli cioè le unità miofasciali del piano verso il quale sta cedendo ok quindi se io non ho abbastanza flessibilità nei muscoli di ante e retro il mio bacino tenderà a ruotare sul piano orizzontale se tu vuoi invece resistere mantenendoti sul piano sagittale devi lavorare con intraextra capite quindi sono i muscoli di un altro piano anche che lavorano allora non è giusto dire questa postura lavora sul piano sagittale no la risultante si sviluppa sul piano sagittale ma necessita di un lavoro 3D queste sono alcune posture dicevamo del piano frontale vedete che c'è un plank laterale c'è un side plank ecco side plank in sanscrito viene chiamato vashistasana ed è una postura dello yoga sul piano frontale che rinforza molto appunto le sequenze di laterio e medio va bene altre posture sul piano orizzontale ne è pieno che i libri di posture dello yoga sono pieni di posture del piano orizzontale di torsioni e d'accordo non stiamo ad analizzarle perché si vorrebbero veramente tanti tanti minuti che non abbiamo allora come si sviluppa una seduta di yoga prima di tutto dobbiamo ricordarci che nel modello biomeccanico di stecco le unità miofasciali le fibre mono sviluppano la forza necessaria del movimento e al mantenimento della postura dei vari segmenti le sequenze miofasciali cioè le fibre verticolari muscolofasciali coordinano vari segmenti contigui in movimenti psiodirezionali ci sono i CF invece che regolano i movimenti fini passaggi armonici da un piano all'altro e che smistono le tensioni dalle unità miofasciali agoniste a quelle antagoniste in segmenti contigui cioè la spirale smistono le tensioni da ante di ginocchio a retrotalo a ante piede eccetera questo è garantito se i vari retinacoli scorrono sui vari tendini senza particolari attriti e si adattano al movimento rimanendo quindi disponibili all'allungamento e all'accorciamento possiamo saltare premessa la complessità del dei movimenti delle asana delle posture dello yoga e l'infinita variabilità di vari gesti umani rendono difficile selezionare delle posture che lavorano solo che si sviluppano solo su un piano ok alcune sì ma altre è difficile quindi tutti gli esercizi proposti tutte le posture che io propongo nei vari workshop di yoga fasciale stimolano coinvolgono allo stesso tempo unità fasciali sequenze diagonali spirali misti abbinamenti misti di vari piani eccetera però quello che ho codificato sono abbastanza rispondenti a un unico piano quindi vi offro alcuni spunti di riflessione l'importanza dell'attività motoria l'analisi dei movimenti secondo il modello biomeccanico di stecco e usare diciamo alcune di queste posture alcuni di questi movimenti sia come verifiche motorie che come esercizi terapeutici alternativi a quelli che potremmo eventualmente somministrare al paziente tra una seduta e l'altra io comincio sempre le sedute con un riscaldamento dei vari segmenti con i movimenti circolari che prevedono l'attivazione progressiva e graduale di tutte le unità mi fasciali del polso per esempio del carpo quindi si passa dall'ante all'antemedio alla medio all'extra all'atrio eccetera ma chi è che coordina che viene coinvolto in questo movimento armonico da un piano all'altro i quattro centri di fusione quindi facendo questo tipo di movimenti con tutti i vari segmenti mobili del corpo riscaldiamo le fasce sia profonde e dei primisiali delle unità unifasciali sia i centri di fusione e i retinacoli questa è un esempio di una sequenza che ho codificato io che lavora tutta sul piano sagittale vedete che ho messo alla base delle posture una specie di pavimento una linea del pavimento rossa e queste sono posture del piano sagittale poi la sequenza prosegue con uno sviluppo sul piano frontale pavimento linea blu azzurra per poi passare a pavimenti di torsione rotazione vedete che alcuni tipo la postura centrale dell'asana della pagina l'asana centrale della pagina è questa qui con diciamo quasi l'ostacolista no ginocchio piegato una gamba dritta e piegamenti in avanti e uno potrebbe dire ma quella si sviluppa sul piano sagittale sì per molti segmenti però per portare l'anca destra in questo caso della figura in quella posizione lì c'è bisogno anche se non si vede ma praticando ve ne renderete conto c'è bisogno di un'intrarotazione del femore importante io per esempio che ho una prevalenza esterna di anca quindi sono bravissimo naturalmente diciamo così predisposto a extrarotare le anche quindi a sedermi le gambe incrociate con le ginocchia basse sono molto rigido nell'intrarotarle per me quella postura lì è stata delle terre raggiungere quella postura mi ha ha implicato un lavoro di anni e ancora oggi dopo anni di pratica se non la spolvero ogni tanto mi si rigidisce quella direzione perché non è la mia naturale eccetera qui ci sono tante torsioni e tanti movimenti molto complessi sono postura anche molto avanzate alcune di queste poi ho codificato una sequenza per le spirali difficile perché poi spirali coordinano i movimenti dinamici quindi è una sequenza molto dinamica che prevede tanti movimenti di andata e ritorno quindi triplice pressione triplice estensione coordinazione di un cingolo di un upper girdle con un lower girdle contro laterale eccetera ma non abbiamo tempo di guardarle tutte ovviamente allora concludendo lo yoga è un tipo di allenamento se vogliamo mi vengono i brividi vengono i brividi guarda mi vengono i brividi a chiamarlo allenamento perché è una pratica è una pratica che va al di là del corpo però se vogliamo focalizzarsi solo sul lavoro di asana come se fosse un allenamento questo allenamento può essere statico quindi isometrico quindi raggiungo lentamente l'asana la postura e mi mantengo in quella postura per tanto tempo come magari vedete adesso nelle immagini cosa stimola questo tipo di lavoro stimola i fibroblasti a produrre continuamente fibre ed orientarle in una determinata direzione perché le allunga in quella direzione quindi il neocollagene ha uno stimolo direzionale rinforza le unità fasciali perché comunque serve un certo tipo di forza quella resistente e conferisce una maggior flessibilità e resistenza ai tessuti perché manteniamo diciamo uno stretch dell'intera sequenza per tanti tanti respiri diciamo così non voglio dirvi tanti minuti perché dipende dallo stile però insomma io in alcune posture sono stato anche un'ora fermo un'ora in una postura chiaramente alcune è possibile tenerle così tante così tanto altre impossibile disumano però si può tranquillamente avvicinare anche i 10 minuti a postura bene invece se abbiamo i video capite che lo stesso tipo di lavoro può essere fatto in maniera dinamica quindi dove si si concentra di più sui passaggi dinamici e sulle transizioni da una postura all'altra cosa stimola il movimento dinamico ripetuto i fasciaciti quindi la produzione di ialluronato all'interno di layers fasciali aumenta quindi la coordinazione perché ci dobbiamo preoccupare di coordinare tutti i vari segmenti in maniera dinamica e armonica senza perdere l'equilibrio in una direzione ritornare indietro cambio piano va in un'altra direzione e quindi capite che stimoliamo la coordinazione delle sequenze sui piani ma anche delle spirali e questo rende la fascia più scorrevole e adattabile bene però entrambi i tipi di allenamento sia quello statico che quello dinamico rimodellano il neocollagene di tipo 3 che poi pan piano si deposita e si stabilizza a tipo 1 per via della stimolazione direzionale ecco perché molti insegnanti molti stili di yoga me compreso e si focalizzano su un allineamento diciamo eccellente cioè devi concentrarti sull'allineamento sul piano non devi uscire chiaramente se queste persone non hanno fatto manipolazione fasciale non parleranno di piani sto parlando di insegnanti di yoga non tutti hanno capito questa cosa insomma è solo perché chiama forma mentis come noi che si analizzano le sequenze sui tre piani ecco io con chi ho parlato nessuno aveva capito questa cosa insomma anche perché molte volte l'insegnante di yoga non è scienze motorie non è fisioterapista non è medico non è esperto di movimento magari la mattina fa il postino e alla sera insegna yoga ecco per cui nozioni anatomo-fisiologiche pari a zero d'accordo buona fascia a tutti cosa si intende cosa intendo questa è un'immagine che mi ha fatto un sacco ridere di Big Bang Theory quando Penny invita Sheldon Cooper a fare un po' di yoga un po' di allungamenti così Penny super sciolta e Sheldon super rigido allora mi è venuta in mente una scena successa a me prima di ricominciare yoga da adulto nel mio ambulatorio c'era questo signore di 80 anni con la sciatica ma di schiena in sciatica io gli indico gli faccio vedere la verifica motoria di andare giù a toccare sui piedi per vedere eventuali differenze intensive nelle due gambe questo 80enne andava a toccare terra con i palmi e io facevo fatica a toccare i piedi quindi era molto più flessibile lui a 80 anni di me che ne avevo 25 28 30 non mi ricordo a me mi tirava anche quello che non dico e lui riusciva a toccare terra allora ho detto cavolo cioè a volte il paziente è più flessibile è più tra virgolette in forma di noi di me cioè cacchio ma io come ci arrivo a 80 anni se oggi sono così rigido basta devo riprendere in mano la mia flessibilità e ho ripreso a fare yoga da adulto allora sappiamo che la salute della fascia chiaramente è multifattoriale cioè una buona idratazione una buona alimentazione un buon ritmo sonnoveglia una giusta quantità di stress dobbiamo stare all'interno della curva gaussiana ok troppo poco stress non va bene ma nemmeno troppo va bene e insomma ci sono tanti fattori anche biopsicosociali che ci portano ad essere in salute quindi di conseguenza anche la nostra fascia sappiamo che il movimento è importante perché aumenta il tono l'idratazione aumenta l'irrorazione dei tessuti c'è un scambio maggiore tra anaboliti e cataboliti e per non parlare di tutti i benefici che vengono dalla respirazione aumentata per via dello sforzo fisico l'allenamento quindi tonifica rinforza aumenta la flessibilità e rende la fascia più adattabile quindi si deve sempre seguire i principi di condizionamento come quelli dello strength and conditioning quindi graduale per cui a un paziente rigido come Sheldon non si non si chiede di arrivare a toccare i piedi il primo giorno quindi nemmeno insegnanti o fisioterapisti eccetera o coadjuvatori dobbiamo andare lì a spingerlo per arrivare giù io purtroppo ho seguito uno stile di yoga all'inizio della mia pratica molto intenso in cui l'insegnante è solito fare degli aggiustamenti molto forti in cui ti si spinge proprio al massimo per arrivare a una flessibilità estrema insomma è stato un po' traumatico e dopo qualche anno l'ho abbandonato però mi ha aiutato a imparare tante cose bene sappiamo anche che si può aprire il capitolo di quelli che sono i benefici non tanto solo fisici ma anche mentali legati all'umore legati allo spirito ecco praticare yoga ti fa cambiare subito la percezione di te dello spazio intorno a te della società delle persone molti adulti purtroppo si avvicinano allo yoga quasi tutti per problemi vengo a yoga perché mi ha spalla vengo a yoga perché mi ha al collo male alla schiena eccetera ma qualcuno ti dice vengo a yoga perché ho gli attacchi di panico ho l'ansia mi hanno detto che può essere utile vengo a yoga perché ho l'insonnia sono un po' depresso così e queste persone spesso hanno dei benefici molto velocemente cioè dopo qualche mese tu vedi proprio che arriva una lezione con una faccia diversa più serena più distesa più sereni dai più felici quindi non ci sono solo benefici somatici ma non è questa la sede anche perché non abbiamo tempo sono già le 8 bene alcune osservazioni gli esercizi presentati non sono delle specifiche verifiche motorie per la sequenza delle spirali anche se io in studio a volte le utilizzo per aumentare il livello di intensità del gesto motorio qualora le verifiche motorie classiche non fossero evocative ok e non evocassero i vari sintomi del paziente magari se un paziente è sportivo se è già molto flessibile eccetera capite che molte volte le nostre verifiche motorie dei segmenti non sono sufficienti aiuta sottoporre al paziente questo tipo di posture è una sorta di verifica motorie di sequenza la postura dello yoga perché tu metti in tensione tutta l'intera sequenza allora delinei i segmenti in disfunzione ok perché sono più globali queste verifiche motorie offre spunti per palpare determinate zone mettiamo che facciamo la verifica motore classica della laterolombi apri un pochettino i piedi rimani sul piano immagini di essere appoggiato al muro e pendi da una parte tu lo fai per stirare per testare questa parte laterale dei lombi ma in realtà contemporaneamente gli adduttori dall'altra parte quindi la medio o contro laterale si stira allo stesso modo ecco mettiamo che noi sospettiamo una lombalgia e sospettiamo che durante questa verifica motore vengano fuori dei dolori nei lombi invece il paziente comincia a dire ah mi tira qui al linguine mi tira l'aduttore e tu subito accendi la lampadina sulla coxa i punti interni della coxa o del ginocchio bene questa lezione anche se poteva essere molto più ampia offre degli spunti per la palpazione di CC e di CF possiamo parlare in altre sedi e offre spunti per esercizi terapeutici o di mantenimento del risultato post sedute di manipolazione fasciale chiaramente non sono praticabili da tutti i tipi di pazienti molte volte i pazienti arrivano in uno stato talmente acuto talmente compromesso che la semplice verifica motoria di anteomero o di lateromero già scatena il dolore quindi non stiamo lì a chiedergli il plank laterale rispetto a come si chiamava fascistasa ma non si interessa insomma non è sempre utile bene adesso questo discorso dell'uomo che ha eliminato la pianta lo saltiamo perché erano delle slide che ho dovuto togliere per mancanza di tempo sappiamo quindi che la nostra storia di anatomia e fisiologia ha per secoli eliminato la fascia dei loro studi eppure la fascia è un sistema capillare innervato autonomo in grado di percepire di curarsi da sola di rigenerarsi di modulare le risposte con il sistema nervoso centrale eccetera allo stesso modo però tanti fasciatero ti ignorano magari i cf e le spirali molti mi dicono ma al primo livello mi trovavo benissimo al secondo livello ci ho capito così perché sono più complesse allora alla fine ti porti a lavorare sempre col piano sui piani sui cc e sulle sequenze eppure anche le spirali sono un tassello fondamentale per la coordinazione e quindi per l'evoluzione dell'animale e quindi l'evoluzione con tutti i movimenti più funzionali ha sviluppato dei percorsi battuti che sono quelli delle spirali i concetti quindi sono delle linee guida verso il benessere del paziente io vi ho parlato molto di yoga ma magari nelle domande verrà è probabile come si possono diciamo così integrare i due approcci ecco bene questo sono io con il vestito da spiderman era il mio sogno quando me l'hanno regalato ho detto no devo farci subito delle posture delle fotografie delle posture allora lo yoga e la manipolazione vi renderà un supereroe perché perché io quando ero all'inizio ero molto rigido molto più rigido di così e avevo dei dolori dappertutto una volta mi sono inchiodato durante un movimento a yoga mi sono inchiodato con la schiena sono rimasto sdraiato a terra c'era la mia compagna lì la Michela che anche lei è Michela Zaghini è esperta di manipolazione e di yoga mia pian piano è arrivata a capire di trattarmi una linea di retromedio e allora non solo quella dei lombi che era dove avevo il locco ma lungo la gamba sinistra lungo gli schioclurali la linea di retromedio e l'arte inferiore nella coscia sbloccandomi la schiena immediatamente come ero abituato anche sui pazienti a vedere ma i giorni dopo eravamo a un ritiro di yoga io ero molto più flessibile dei giorni prima paradossalmente dopo un blocco un blocco antalgico allora ho capito che aver lavorato quei determinati punti mi aveva dato maggior flessibilità che poi mi è rimasta nel tempo allora per quello che dico lo yoga più la manipolazione fasciale insieme possono renderti un supereroe grazie a tutti a volte mi tocca chiamare i pompieri perché non riesco più a uscire dalle posture non so neanche più come sono messi i segmenti questi sono i vari contatti miei chi vuol praticare yoga con me con la mia voce nel nostro canale youtube ci sono alcuni tutorial che si possono combinare provate ad andare a vedere partite dal riscaldamento principianti ok non vi portate troppo oltre riscaldamento principianti saluta al sole cose di base e poi c'è la nostra pagina della scuola yoga bene io ho concluso almeno la presentazione ciao Ale ciao voglio dire ai nostri partecipanti che siamo giunti al termine di questo percorso di webinar del 2024 in italiano voglio ringraziare ciascuno di voi per averci seguito per il vostro prezioso contributo e soprattutto il vostro interesse la vostra partecipazione attiva sono stati poi fondamentali penso per il successo di tutti i nostri incontri organizzati dal Fascia Manipulation Institute by Steco abbiamo esplorato insieme diversi aspetti della nostra pratica ma soprattutto aspetti nell'utilizzo della manipolazione fasciale e anche nello studio della fascia che vanno sempre di più a sottolineare il concetto chiave che deve guidarci ed è quello della centralità dei nostri pazienti quindi ogni tecnica ogni approccio e ogni decisione deve essere presa con questo obiettivo finale che è il benessere del nostro paziente quindi questo è il motivo per cui alla fine poi si vanno a realizzare questi webinar e si è deciso con l'istituto della manipolazione fasciale di portare avanti questi webinar vi ringrazio ancora una volta per la vostra partecipazione e ringrazio anche Marco che ci supporta con la sua attività informatica per il grande lavoro che fa dietro le quinte nell'organizzare tutti questi eventi ringrazio anche la famiglia Stecco per l'opportunità di presentarli e vi rimando agli altri appuntamenti che stiamo organizzando per il prossimo anno quindi rimaniamo in contatto continuiamo a condividere idee e esperienze per migliorare sempre insieme ma soprattutto tenendo il nostro paziente al centro del nostro focus quindi buon fine anno a tutti buone future vacanze a tutti e ci vediamo il prossimo anno ciao Alessandro ciao ciao a tutti ciao a tutti